Ciao sono Emiliano Galli dell'Agenzia Immobiliare Remax Italcase, oggi mi trovo in zona Bocea in via Gregorio 13 81 e quello che ti presento è l'appartamento Leone, è un appartamento che è stato completamente ristrutturato come si può notare da subito e dove è stato sfruttato un pochino tutto lo spazio utile tant'è che al di là di un piccolo disimpegno per l'altra zona giorno e zona notte tutto quanto è stato ottimizzato. La ristrutturazione è stata una ristrutturazione completa svolta tra il 2021-2022 e quello che si vede appena si entra è proprio questo senso di convivialità, di freschezza, una ristrutturazione molto curata nel dettaglio ma comunque molto sobria. chiaramente la casa verrà venduta a vuota, quello che rimarrà sono soltanto le strutture, ecco quella struttura libreria in cartongesso fissa. Entrando c'è questa zona giorno molto ampia dove i proprietari hanno studiato questa questa divisione caratteristica in legno, quindi è ben divisa tra zona pranzo, zona cucina dove loro hanno optato per una cucina con isola e zona tv. La parte di questo appartamento, al di là che sia tutto quanto ristrutturato recentemente con serrande elettriche e infissi in pvc doppio metro, è l'affaccio perché seppur piano terra come ingresso, dice Vecchiello tredicesimo, l'affaccio è da primo piano perché non affaccia direttamente sulla strada principale ma sul laterale e sul retro. La caldaia per l'acqua calda sanitaria mentre i riscaldamenti sono centralizzati con i contabilizzatori. Le finestre hanno anche le zanzariere. Il disimpegno di cui vi parlavo, dietro questa porta che vi faccio intravedere c'è il vano lavanderia ripostiglio che è utilissimo, poi una prima camera da letto dove c'è la cabina armadio molto spaziosa come potete vedere, la camera da letto che anche qui è veramente grande perché c'è un letto matrimoniale, i comodini, una cassettiera. L'affaccio di questa camera sempre da primo piano laterale, eccola qui. Hanno studiato veramente di tutto e di più con controsoffitti, faretti, led, cartongesso. Di sopra, sopra il ripostiglio che abbiamo visto prima della lavanderia, c'è un altro soppalco. Poi la camera, attualmente la camera del figlio ma è una camera matrimoniale a tutti gli effetti, molto piena di cose e quindi entra tranquillamente anche un letto matrimoniale con il suo bagno interno che è un bagno completo con doccia, lavabo, sanitari. L'affaccio è quello della cucina, dell'ora del balcone e infine c'è il bagno. Bagno anche qui comodo, molto comodo, anche questo completo e questo alla finestra chiaramente. Quindi ricapitolando, siamo in via Gregorio 1381, l'appartamento Leone, un appartamento completamente ristrutturato e pronto per essere abitato. Attualmente composto da un salone molto grande di 35 metri quadri con zona cottura, finestra e porta finestra sul balcone, disimpegno da quel lato con le due camere da letto e i due bagni più il cabine armadio e il ripostiglio. In aggiunta può essere acquistato un piccolo box sotto la palazzina. Se può essere la casa che fa per te non esiterà a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Grazie a tutti.